Grazie a tutti. Grazie, Paolo sta salendo. Eccomi, eccomi, eccomi. Eccolo qua, grazie. Eccomi, buongiorno a tutti, cercheremo di essere brevi perché sento già qualcuno che dice di avere fame, però detto questo, allora benvenuti a tutti voi, benvenuti anche a tutti quelli che ci stanno guardando e magari si sono collegati successivamente online. Abbiamo sentito parlare di un'evoluzione della concezione, della percezione di quello che succede online, effettivamente la gestione del dato diventa sempre più importante e qui oggi cercheremo di capire come nel nostro settore, che è quello degli agenti immobiliari, questo può diventare importante. Infatti i dati sono un elemento essenziale per capire qual è la direzione del mercato. Nell'immobiliare, appunto, i dati aiutano a valutare gli immobili, a prevedere le fasi del mercato, a intercettare le decisioni dei clienti. Ma come aziende e start up che lavorano con i big data possono aiutare gli agenti immobiliari nella fase di acquisizione, ce lo spiegherete voi. Iniziamo da Andrea Volontè. Tutti, Andrea, così, tanto a caso, no, va bene. Tutti vorremmo anticipare le decisioni dei clienti, ricordiamo che Andrea Volontè è il director of sales di Subito, tutti vorremmo anticipare le decisioni dei clienti, ma quale vantaggio offre un portale generalista come Subito? Si sente? Ok, ne abbiamo già parlato stamattina, al di là del vantaggio che si può essere utilizzando un portale come il nostro, mi piace dare, diciamo così, una chiave di lettura dei dati, no? Perché si parla sempre di dati, sembra che siano facili, molto spesso ci si confonde tra sistemi e dati, tra tool e dati, in realtà il dato è una cultura. Noi in azienda abbiamo investito tanto, non tanto sulle persone, ma sulla cultura del dato. Una delle cose che ci deve guidare tutti quando parliamo di dati, sia che sia una digital company come noi, sia che sia una piccola agenzia immobiliare, è che una delle regole è che si dice nel dato, trash in, trash out. Quindi spazzatura, se entra spazzatura in un sistema, uscirà spazzatura. Molto spesso invece si pensa che basta avere un tool per avere le risposte, in realtà non è così. La vera differenza si fa nel momento in cui si ha la consapevolezza delle risposte che si vogliono avere e si costruisce il dato. Questa è la differenza sostanziale. E quindi bisogna fare degli investimenti, investimenti di persone, investimenti di infrastruttura, investimenti di design. Io stesso ho imparato che quando si parla di dati, in azienda da noi, noi commerciali li chiamiamo simpaticamente datacosi, quelli che fanno i dati, perché sono delle persone, abbiamo una trentina, che fanno dati. Ma in realtà abbiamo tante figure diverse. C'è l'architetto del dato, c'è l'analyst, ci sono persone che veramente costruiscono l'infrastruttura per poi leggere il dato. Poi arriviamo noi che li leggiamo. Questo per dire che quello che avete visto per esempio prima, che è semplicemente un risultato di un'analisi, è stato possibile perché qualcuno ha pensato a costruire l'infrastruttura del dato, senza la quale non è possibile averlo. Tante volte molto spesso si dice fammi un'estrazione, ma l'estrazione non è semplice se tu non hai costruito l'infrastruttura dei dati. Questa è la cosa che ci tenevo a dire, perché semplicemente leggerli non è sufficiente, devi pensare prima cosa devi leggere. Angelo Semerano, di Gesti. Ci sono abbastanza dati accessibili, no scusate, come può gestionare i CRM, perdonami, supportare le attività di acquisizione di agente immobiliare, soprattutto alla luce del fatto che abbiamo visto che le varie generazioni hanno una percezione di quello che vedono diverso. Sì, assolutamente. Ma il tema è dati, un gestionario, un CRM può supportare il lavoro degli agenti immobiliari, delle agenzie, grazie ai dati, soprattutto quando i dati vengono inseriti, perché il tema principale, possiamo fare un po' tutti i discorsi che vogliamo, ma il nocciolo della questione è sempre quello, i dati non vengono inseriti, perché noi operiamo tutti quanti in un settore abbastanza diverso, abbiamo realtà, micro realtà, fino ad avere grandi realtà a livello di agenzie immobiliari che operano nel settore. Le realtà più strutturate hanno più personale e hanno del personale spesso e volentieri preposto proprio al data entry, all'inserimento del dato, alla corretta gestione del dato, cosa che non tutti si possono permettere. E lì poi avviene la differenza, perché nel momento in cui il dato viene inserito, il dato è lavorabile e si vanno a creare anche delle opportunità nascoste di business all'interno di CRM, basti pensare che sono la banca dati, che è il patrimonio di ogni agenzia immobiliare, che ha banca dati nella grafica dei clienti, ma soprattutto delle loro richieste nel tempo. Richieste che nel tempo, in virtù di quelli che sono anche i cambiamenti del mercato, che possono essere indotti anche da stravolgimenti, pensiamo al Covid, quanta banca dati di richieste avevano gli agenti immobiliari pre-Covid, che appena è passata la fase acuta della pandemia e tutti si sono resi conto che sì, mi serve una stanza in più, mi serve magari un giardino, uno spazio esterno, poteva essere rilavorata per aggiornare questa banca dati e generare nuove opportunità. Grazie a un dato inserito e gestito, sicuramente si possono rimettere in moto dinamiche di vendita o anche di acquisizione immobili che difficilmente si hanno nel momento che la banca dati non viene mai movimentata e mai gestita nel modo corretto, quindi già partendo per esempio dalle richieste che arrivano dai portali fino appunto a tutte quelle che sono le attività che si fanno poi sugli immobili, anche per tenere un po' il polso della tua azienda, perché oggi qualsiasi agenzia immobiliare che sia micro o sia macro, di fatto è comunque un'azienda. La gestione del dato quindi va in controtendenza con la pigrizia, perché poi va gestito, va inserito, quel dato va comunque in qualche modo elaborato, letto e sviluppato, però ci sono dei dati a cui noi possiamo attingere, che sono dati che non devo necessariamente inserire perché li ho raccolti io fisicamente a gente immobiliare e quindi chiedo a Patrick, ci sono abbastanza dati accessibili che consentono quindi una migliore comprensione del mercato immobiliare? Allora, mi sentite? Sì. Negli ultimi cinque anni credo che abbiamo assistito a una crescita esponenziale della quantità dei dati a disposizione, anche se l'utilizzo del termine abbastanza credo che non sia un termine che appartiene a questo settore, a chi lavora con i dati, perché i dati non sono mai abbastanza, ci sono aziende che lavorano in mercati in cui i dati sono molto, molto, molti di più di quelli che noi abbiamo in Italia, eppure i reparti più grandi delle aziende che lavorano con i dati sono sempre quelli di ricerca e sviluppo, perché i dati hanno una pessima abitudine, danno a sua fazione e quindi più dati hai, più domande puoi porti, più risposte puoi cercare nei dati e di più dati hai bisogno per confermarle. Quindi questo è il brutto vizio dei dati, che non sono mai abbastanza, sicuramente un bel miglioramento negli ultimi anni. L'equazione dato a sua fazione mi fa riflettere, non sei mai scontato, ottimo Patrick. Senti invece Mattia, come le automazioni di un CRM possono aiutarci a lavorare sulle relazioni con i clienti? Il CRM, ovviamente immagino tutti voi sappiate cos'è, aiuta sicuramente. Assolutamente, diciamo la gestione del cliente e il suo livello di soddisfazione possono essere un indicatore molto importante del livello di successo di un business. Sappiamo però che comporta un investimento di tempo molto elevato. Tempo che di solito è quello che un po' manca a tutti quanti noi durante la nostra settimana lavorativa classica. Ed è proprio a questo punto che deve subentrare l'automazione nel CRM per andare a raccogliere tutte queste informazioni che i nostri clienti lasciano attraverso diversi canali di comunicazione. Informazioni che sono frammentate nel web e che in qualche modo devono trovare un qualcosa, un qualcuno che supporti il professionista nell'organizzarle e mettere ordine in tutti questi dati che sono stati lasciati. Per cui un buon CRM a nostro avviso deve proprio fare questo, supportare l'agente immobiliare in questo caso nel riorganizzare tutte queste informazioni e poi diventa a questo punto molto più semplice andare a sfruttare le automazioni in maniera personalizzata perché poi sento che c'è sempre molta paura nell'utilizzo delle automazioni perché c'è il rischio magari di perdere la spontaneità della comunicazione con i clienti. Quindi si può mantenere anche una relazione calda con il cliente attraverso un CRM, tra virgolette, freddo? Bravissimo. Pensiamo a due approcci tendenzialmente diversi. Il cliente che ci contatta per la prima volta perché è interessato a un nostro appartamento, ci contatta tramite sito internet magari. Ho il cliente con il quale abbiamo già venduto diversi appartamenti e ci fa una classica telefonata in sede. Banalmente sono due clienti importantissimi allo stesso modo per noi, ma che richiedono una comunicazione fatta in modo diverso. Per cui se le automazioni non includessero anche un coefficiente di personalizzazione importante, si andrebbe poi a perdere quella che è la spontaneità di comunicazione con i clienti. È spesso un'obiezione che mi viene fatta, però se mi fa tutto quanto poi il software, io rischio di rimanere senza lavoro? No. Hai il tempo per fare qualità. Rischi di averne di più poi per gestire ancora di più i tuoi clienti. Allora, Massimiliano, sappiamo che uno dei pensieri che affliggono la gente immobiliare da quando si alza la mattina a quando va a dormire la sera è l'acquisizione. Ecco, sempre di più la digitalizzazione sta aiutando e aiuta gli agenti immobiliari. A che punto siamo e in che modo i dati a disposizione possono aiutare per una buona strategia di acquisizione? Allora, negli ultimi anni ci sono state delle notevoli aperture anche sul fronte del dato del compravenduto, anche dall'agenzia dell'entrata, quindi l'agenzia dell'entrata è venuta in soccorso anche non solo degli agenti immobiliari, ma anche dei privati stessi. Quindi diciamo, proviamo un attimo a pensare il fatto che una volta pensavamo, non siamo i detentori del dato del compravenduto, quindi noi siamo forti, siamo fighi, e i privati invece non lo sanno. Oggi i privati sanno anche i prezzi di compravenduto delle case nella loro zona. Quindi è un tema che non possiamo più utilizzare a nostro vantaggio, come facevamo una volta. È vero che però quel dato ci dice da dove veniamo, il passato, un qualche cosa che non è detto che in futuro sia ripetibile, no? Un prezzo di un immobile, bisognerebbe capire quali erano le parti in campo, chi era l'acquirente, chi era il venditore, quali erano le esigenze del venditore, aveva bisogno di soldi, ha svenduto. L'acquirente ha comprato quell'immobile a 30.000 euro in più perché voleva avvicinarsi finalmente alla figlia, nello stesso palazzo. Queste informazioni noi non ce le abbiamo. Ecco perché dico sempre quando incontro poi gli agenti immobiliari che oggi con tutto quello che è successo, con il dato del compravenduto, attenzione, è importante averlo, ma non ci risolverà la vita. Il tema dei dati, secondo me, è molto importante inquadrarlo sull'opportunità per il professionista di cercare di fotografare lo scenario più probabile futuro per la vendita di un nuovo immobile che prende. Quindi riuscirà a fare una fotografia del mercato puntuale con elementi non soltanto oggettivi che conosciamo, estimo, percentuali, cose tecniche, analitiche, ma anche elementi che riguardano la qualità della vita. Pensate che nel 2022, fino a giugno del 2022, il 40% di chi cercava casa chiedeva informazioni agli agenti immobiliari sulla classe energetica. Un tema che è un nervo un po' scoperto per gli agenti immobiliari, perché in questo momento non sappiamo dare un valore alla classe energetica a parità di condizioni di un immobile. Però purtroppo la Banca d'Italia, con una recente circolare, vuole il valore della classe energetica sulle valutazioni degli immobili. Quindi questa è una notizia che magari è abbastanza recente. E poi c'è tutto il tema della VM che magari poi si potrebbe aprire un capitolo. Però ecco, il mio, il nostro obiettivo come azienda in questo momento è quella di aiutare i professionisti a cercare di immaginare lo scenario più probabile futuro. Quindi riuscire a posizionare l'immobile sul mercato avendo a disposizione una quantità di dati importanti che ci consente di dimostrare anche ai moderni clienti che abbiamo delle competenze, che sappiamo parlare anche un linguaggio moderno, che non è solo il tuo immobile vale questo, perché te l'ho detto io che ho 30 anni di esperienza che sto sul mercato. Ok? I dati ci servono a questo. Allora, adesso inizia il secondo round di domande. Abbiamo 15 minuti perché ovviamente dobbiamo poi iniziare con i lavori alle 14.30, ricordo, quindi adesso tra 15 minuti ci lasciamo e alle 14.30 puntuali, così continuiamo a mantenere la puntualità su tutta la scaletta. Andrea Volontè, torniamo da te, arrivare al cliente che vende, prima della concorrenza, come si mettono a frutto le potenzialità di un portale di annunci orizzontale come il vostro? Questo l'abbiamo raccontato anche prima, no? Cioè, concettualmente quello che è importante è cercare di intercettare quelli che sono alcuni dei comportamenti tipici che portano la persona a dover vendere un oggetto. Qui stiamo parlando di case, per l'amor del cielo, ma vale anche per le auto piuttosto che per altre cose. La cosa che dobbiamo sempre ricordarci è che noi siamo degli utenti. Molto spesso ci si mette, si fa il brainstorming, si dice, beh ragazzi dai, cerchiamo di capire chi è il nostro utente, chi è il nostro cliente. Tante volte il consiglio che do sempre io è andate allo specchio, andate in bagno, guardatevi allo specchio e trovatevi, trovatelo. Perché molte volte se gli a dire, ok, ma com'è il nostro cliente? Com'è il cliente che deve comprare un oggetto? Molto spesso è diverso da te, che sei un professionista, perché tu sai tutto e lui non lo sa, quello che sei tu. Sembrano scimate, ma è vero. Tante volte noi dobbiamo vendere una casa, noi sappiamo esattamente tutto quello che ci vuole, prima, durante e dopo. In realtà l'utente che compra una casa o che vende una casa lo fa per la prima volta, oppure lo fa ma l'ultima volta l'ha fatto 30 anni fa e magari oggi è completamente diverso. Io tante volte dico, immaginatevi di dover comprare una Reflex per la prima volta. C'è una macchina fotografica completamente molto, diciamo avanzata, per la quale servono determinate competenze e conoscenze. Io non so niente delle Reflex. Se domani mattina qualcuno mi dovesse dire compra una Reflex, magari mi viene voglia di comprarlo, mi devo cominciare a documentare. Come dicevamo prima, vado su internet, io sono di mezzo, su YouTube ci vado, ok? Però devi metterti in quella testa lì. Cioè la differenza è che tu ti devi mettere nella testa delle persone. Non devi pensare che le persone pensino con la tua testa. Dico soltanto una cosa per farvi capire. Tante volte mi viene chiesto qual è l'annuncio che funziona meglio, no? Noi facciamo quello, no? L'annuncio che funziona meglio è quello che ha scritto tua madre, che non vende le case. Questa è la chiave. Perché quando lo scriviamo noi professionisti, lo scriviamo con la nostra lingua, rispondendo alle nostre esigenze, non a quelle del cliente. Se lo scrive vostra madre, per dire vostra zia, vedrete che lo scriverà con un linguaggio completamente diverso, mettendo più accento, più focus su cose che magari voi non considerate. Questa è la chiave per, diciamo così, trovare le cose. L'involgimento familiare. Sì, ma secondo me tante volte si pecca di, non dico di presunzione, però le persone, i clienti, gli utenti devono pensare come la penso io, perché io so tutto. In realtà no, è il contrario. Sei tu che ti devi mettere nella testa dell'utente per dargli risposta a lui. E poi arrivano. Verissimo, l'idea di parlare la lingua del consumatore finale è poi quello che genera la giusta relazione. Angelo, torno a te. Molto spesso i dati inseriti nel gestionale sono come in una scatola nera. Gli agenti mobile inseriscono i dati, poi si dimenticano di averli inseriti, non li gestiscono. Ci vuoi dare tre consigli veloci su come rigenerare questi dati e fare in modo che diventino un'opportunità di acquisizione? Sì, di consigli ce ne possono essere anche più di tre. Fondamentalmente è un po'... Andiamo il tempo. Lo so, lo so. Fondamentalmente mi riallaccio un po' a quello che dicevo prima. Sono dei tesori nascosti. No, è un po' come avere la mappa del tesoro e la X è il punto in cui dobbiamo andare a scavare. Quindi ci sono tanti scrigni nascosti all'interno del gestionale. Bisogna andare a vedere che cosa ci serve in quel momento perché poi in tutti i sistemi gestionali ci sono comunque funzioni avanzate di ricerca che ti permettono di ottenere queste informazioni. Diversamente, che cosa si ha di più con determinati sistemi si ha la possibilità di avere già il sistema che ti genera delle opportunità, che ti può avvisare che ci sono appunto delle opportunità. E sono funzioni che esistono veramente nella vita, non è che stiamo parlando di innovazione tecnologica, però spesso e volentieri sono sconosciute più. Quindi prima di pensare che cosa posso trovare all'interno del mio software e che cosa manca dentro di me. Perché molti poi si fermano al ho preso il gestionale, ho preso uno strumento, qualunque esso sia. Ci pensa a lui. E ci pensa a lui quando invece devi pensare prima di tutto a te stesso. Ti devi formare su tutti quelli che sono gli strumenti per poterli utilizzare al meglio. E noi della formazione, soprattutto fisica, abbiamo fatto un po' il fiore all'occhiello di quella che è il nostro servizio perché siamo gli unici in Italia a avere consulenti proprio sul territorio che vanno alle agenzie e facciamo tutta una serie di appuntamenti e così via perché crediamo tanto che al di là della tecnologia quello che dà il maggiore rendimento e il risultato sono le persone. Quindi anche quel rapporto che si va a creare di fiducia tra gli utenti che usano i prodotti e le aziende che li forniscono che è lo stesso valore di fiducia che si va a creare tra l'agente immobiliare e il cliente che si affida a lui per vendere casa o che magari si incontra, diciamo, nel momento che ti arriva una richiesta di qualcuno che vuoi acquistare un immobile che hai a portafoglio. Allora, Patrick, noi, tranne voi noi, siamo tutti d'accordo che acquisizione e prezzo vadano a braccetto e non c'è dubbio. Ma come può un report di stima aiutare l'agente immobiliare in questo? Allora, noi sappiamo perfettamente che un agente immobiliare, soprattutto se ha un po' di esperienza, non ha bisogno di un report di mercato per dare il prezzo a un immobile, soprattutto se è nella sua zona di operatività. Conoscete il mercato benissimo, conoscete tutte le storie che accennava prima a Massimiliano, quindi conoscete le compravendite che ci sono state, conoscete il perché quelle compravendite sono venute a un determinato prezzo, quali fattori hanno influito. Quello che la persona che non le sa, queste informazioni, però, è il venditore. Il venditore vorrebbe qualcosa che vada a supporto della vostra professionalità e che in maniera un pochettino più semplice e più visuale, perché le parole non sempre vengono comprese, sia in grado di spiegargli quello che voi, dentro di voi, sapete già. Quindi, in realtà, collegandomi anche all'esempio della Reflex, il cliente viene da voi perché vuole sapere quanto vale casa sua e vuole sapere come vendere casa sua. Ma una volta che è a voi lì davanti, ha un pozzo di sapere e le domande che gli vengono sono moltissime, i dati danno a sua fazione. Quindi inizia a voler sapere come andrà il mercato, è il momento giusto per vendere oppure no, magari la curiosità, quanto ha venduto una signora del piano di sopra, che è sempre stato curioso di saperlo, vuole sapere se casa sua è appetibile, se ci sono molti acquirenti oppure su un mercato in cui ci vorrà un anno e mezzo per vendere. Quindi il bello è che il cliente ha tantissime domande e più risposte voi sapete dargli, più possibilità avete di portare a casa un incarico al prezzo corretto e soprattutto un cliente che a quel punto si fida di voi. Questo riteniamo sia il compito di un report, ovvero quello di aumentare la professionalità di chi già la conoscenza ce l'ha. Mattia, ogni volta che facciamo un'azione sui nostri clienti, dedichiamo del tempo. L'equazione tempo-denaro comunque vale per ogni industria, compresa quella del real estate. Il corretto utilizzo del CRM può aiutarci a ridurre il tempo e quindi inevitabilmente a ridurre i costi. È corretta questa equazione? Sì, hai detto benissimo. Abbiamo detto prima il ruolo che gioca un CRM nell'organizzazione, nella strutturazione di tutti questi dati che il cliente lascia un po' per strada durante la fase di comunicazione. Per noi un CRM deve occuparsi della gestione di questi dati per favorire appunto la gestione della relazione col cliente. H24, sette giorni su sette. Senza chiedere straordinari. Senza chiedere straordinari giustamente, giusto appunto. Però ci tengo a precisare... Non è anche mai vertenza, scusate, ma la fame fa dire queste cose. Vai, vai. Ci tengo a precisare 24 ore su 24, proprio collegandomi anche a quello che ha detto Andrea, che i nostri clienti li troviamo semplicemente guardandoci allo specchio. Viviamo nell'epoca del tutto e subito in qualsiasi settore. Pensate a se adesso volete uscire a ordinarvi una pizza, un quarto d'ora, 20 minuti, questa pizza è arrivata di fronte al nostro albergo. Ci sediamo la sera sul divano, vogliamo guardare un film, una serie tv, apriamo il bottone sul telecomando e stiamo guardando esattamente quello che vogliamo, quando lo vogliamo. Per cui immaginate quando ricevete una richiesta, quando si riceve una richiesta su un immobile il venerdì sera. Tutte queste richieste vanno a accumularsi e si rientra in ufficio lunedì già con l'ansia di tutte le email che bisognerà rispondere. E gran parte della giornata lunedì è dedicata solamente... Cosa è successo nella percezione di quello che ha lasciato la richiesta il venerdì sera? Che non ha quella interattività... Non trova quel riscontro che trova in tutti gli altri mercati. E proprio a nostro avviso il mercato immobiliare non è esente da questo tipo di situazione che si è creata. Per cui il tutto è subito e è questo che con l'automazione il CRM va a fare. Organizzare questi dati, rispondere automaticamente per gli agenti a queste richieste che arrivano dai siti web, dai portali immobiliari. Perché ovviamente la percezione è completamente diversa. Massimiliano, finiamo con te. Torniamo a parlare di report. Quanto il report di stima, grazie appunto all'utilizzo e allo sfruttamento dei dati disponibili, può entrare in profondità e diventare uno strumento commerciale importante per l'agente immobiliare? Come dicevo, è fantastico oggi avere tutta una serie di informazioni a disposizione che permettono all'agente immobiliare di entrare anche sul soggettivo. Cioè quindi significa offrire un prodotto mirato, calzato, personale anche. In questo caso parlo per esempio di un potenziale acquirente. La velocità della fibra che raggiunge l'appartamento, l'elettrosmog, quanto è esposto l'immobile all'elettrosmog. Se c'è bisogno di intervento di ristrutturazione, avere immediatamente i preventivi di ristrutturazione per avere un'idea di quanto mi costerà ristrutturarlo. La sua redditività anche per esempio sugli affitti giornalieri. Se lo affitto giornalmente su Airbnb, a quanto lo posso affittare? Per esempio se lo compro a uso per metterlo a reddito e per quanti giorni all'anno lo potrò affittare? Ecco questi sono elementi, sono dati, ma che portano poi però al professionista un obbligo, la preparazione. I dati senza preparazione non servono a niente. Quindi se vogliamo utilizzare il dato dell'elettrosmog dobbiamo sapere che cos'è la legge Gasparri sull'elettrosmog, dobbiamo informarci, dobbiamo sapere che cos'è una classe energetica. La classe energetica è quanto consuma l'immobile, non è la bolletta elettrica che troviamo a casa. Ecco queste sono tutte cose che vi fanno capire che possiamo essere performanti, possiamo offrire un servizio veramente sbalorditivo, però non possiamo pensare di stampare, utilizzare questi contenuti senza un'adeguata preparazione. Bisogna studiare e parlare lo stesso linguaggio dei nostri clienti.